Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova recensione. Oggi parliamo della prima parte della sesta stagione di Cobra Kai e credo che sarà solo il primo di una trilogia di video che porterò sul canale dato che questa stagione è stata divisa in tre parti. Quella uscita oggi 18 luglio, quella che uscirà poi a novembre sempre su Netflix e la terza in un vago 2025, non è stato detto neanche il mese d'uscita confermato. Questa mossa sinceramente non è che la apprezzi così tanto perché se vuoi proprio far parlare per così tanto tempo di questa ultima stagione di Cobra Kai, a questo punto fai un'uscita settimanale per gli episodi. Quindi un po' il metodo Disney Plus o Prime Video per alcune serie come The Boys, che però è sicuramente un metodo migliore di quello, almeno per quanto mi riguarda, migliore di quello che stanno facendo, che stanno attuando ormai da qualche anno, ovvero dividere le stagioni in varie porzioni. Comunque, oggi parliamo dei primi cinque episodi che ho avuto la possibilità di vedere in anteprima ed è per questo che questo video arriva in concomitanza all'uscita di questi episodi su Netflix e siamo arrivati alla sesta stagione di Cobra Kai. Perché? E questa è la mia domanda. Si nota davvero con questi cinque episodi quanto questa serie sia stata portata allo sfinimento? Strizzata fino all'osso, munta completamente. Da qualche stagione a questa parte non sembra più avere chissà quanto da dire e anche se a ogni stagione inventano nuove cose come per esempio nuove, tra virgolette, comunque nuovi tornei, nuovi legami, nuovi rapporti tra i personaggi, ripeto nuovi, tra virgolette, adesso vedremo perché, la serie è sfortunatamente ormai diventata la parodia di se stessa ma anche di Karate Kid. È diventata davvero ripetitiva sotto tantissimi punti di vista, dinamiche viste e riviste, nuovo torneo appunto, non so quante volte ho perso probabilmente il conto di quante volte sia stato detto in sei stagioni il Cobra Kai è tornato o una cosa del genere. Oppure ho perso il conto delle volte in cui Johnny e Daniel litigano per poi fare di nuovo pace, per poi litigare di nuovo, è sempre la stessa cosa. Ho ancora tutti i momenti di folla, tanti personaggi in un'unica stanza in cui sai che da lì a poco inizierà una rissa in cui ovviamente l'avranno vinta i tizi del Karate, con la solita preparazione che allo spettatore in teoria farà odiare in pochissimo tempo quei personaggi che da lì a poco avranno le ossa rotte da parte di Miguel o chi altro per lui. Una cosa c'è da dirla, la serie è abbastanza coerente sulla qualità. È sempre stata media, media bassa anche in realtà. Uno stampo puramente televisivo che traspare un budget abbastanza risicato da tantissimi elementi individuabili facilmente. La fotografia per esempio è molto da film tv o da web series, ovvero quello che era all'inizio Cobra Kai, però all'inizio, adesso c'è Netflix dietro. E sinceramente visto che appunto è cambiata la produzione avrei in qualche modo preferito uno stampo un po' più cinematografico. Adesso non voglio sicuramente un film di Nolan, ma per esempio Netflix è la stessa di, non lo so, Stranger Things, o anche di Umbrella Academy comunque, che arriverà con la sua ultima stagione fra qualche giorno. Arriverà il video se volete, fatemelo sapere con un commento. Ecco, queste serie per esempio hanno un po' uno sguardo, una visione un po' cinematografica del tutto. Invece Cobra Kai è prettamente televisiva. Partendo appunto dalla fotografia, non capisco perché il Giappone sia blu in questa stagione. Direi anche che sarebbe l'ora di abbassare un po' il framerate oppure i tempi di scatto a un cinquantesimo perché diciamo che si nota abbastanza che le riprese siano con parametri, ripeto, televisivi. E questa cosa non la capisco perché... e questa cosa non la capisco perché sì, sono io sicuramente che mi ci fisso. Chi sta guardando questo video magari non... nemmeno tiene conto di questi elementi. Però per quanto mi riguarda queste riprese di questo genere mi danno l'impressione di star guardando in un universo alternativo in cui c'è quel pizzico di sale in più nella caponata e iniziano a picchiarsi sul set della prova del cuoco. Vorrei veramente chiedere a chi ha lavorato alla serie perché non abbiano dato un look più cinematografico al tutto. In ogni caso, visto che ho parlato di cinema, questa stagione sarà divisa in tre parti, sì, e questo è già stato detto, ma il prossimo anno arriverà il quarto, quinto film di Karate Kid. Contiamo il quarto con la Swonk, in cui ci sarà Ralph Macchio ma anche Jackie Chan. Quindi in realtà sarebbe persino il sesto film di Karate Kid, visto che quello con Jackie Chan e il figlio di Will Smith è totalmente canonico. In tutto questo manca William Zabka e non so che cosa gli succederà a fine Cobra Kai, a meno che il suo personaggio non venga rivelato con qualche teaser più in là. Oppure più semplicemente con una mossa stupidissima per quanto mi riguarda, il nuovo film di Karate Kid non terrà conto di quello che succede in Cobra Kai. Spero di no perché sarebbe veramente un'idiozia. Anche perché senza Cobra Kai a questo punto quel film di Karate Kid non sarebbe neanche esistito. Ma torniamo a parlare della serie perché finora comunque ne sto parlando abbastanza malino di questi primi cinque episodi della sesta stagione e quindi direi di continuare a dire qualche difetto di questa serie perché si prende maledettamente sul serio e in alcuni momenti risulta anche esagerata e al limite del ridicolo e non sto scherzando. Ricordiamo che stiamo pur sempre parlando di Karate Kid e ci sono degli uomini di mezza età ma anche dei vecchietti che insegnano il Karate a dei ragazzini. Questa è comunque la premessa, poi ci possono essere tutte le sottotrame che volete, più o meno serie, più o meno adulte, ma siamo comunque lì e si prende tanto tanto sul serio. E per la prima volta con questa sesta stagione mi sono ritrovato a non essere interessato per niente ai personaggi, a cosa stesse succedendo sullo schermo. Per me sarebbe potuto tranquillamente cadere, non lo so, un meteorite in stile motta che non mi sarebbe fregato nulla. Peccato perché comunque mi fa male dire queste cose dato che ho un bellissimo ricordo delle prime stagioni di Cobra Kai. Però si sente totalmente quanto non ci fosse nulla da dire in più dopo quelle prime stagioni che hanno fatto successo e che quindi hanno avuto un seguito. Qui hanno anche dovuto lavorare di retcon aggiungendo parti al passato di Miyagi che non sono mai state dette in quattro film e sei stagioni di serie. Aspetto di vedere gli altri dieci episodi per poter giudicare questa retcon di Miyagi al 100%, però per ora mi sembra un po' una cosa buttata lì a caso solo per aggiungere un ulteriore sottotrama a questa stagione. Solo perché hanno 15 episodi da sfruttare. Comunque, se ancora non avete visto questi cinque episodi direi di lasciare qui il video perché fra poco inizieranno gli spoiler. Come sempre però vi invito a seguirmi su tutti gli altri social, tanto i link sono nella descrizione. Instagram, TikTok, Letterboxd, X. Comunque ripeto, se ancora non avete visto la prima parte della sesta stagione di Cobra Kai uscite dal video perché gli spoiler iniziano tra 3, 2, 1. Come primissima cosa qui abbiamo Chris che appunto dopo la quinta stagione esce dal carcere quindi è ricercato, tenete bene in mente questa cosa, è ricercato a livello nazionale credo. Che comunque è un altro elemento ripetitivo della serie, lui che continua a ritornare, il Cobra Kai non muore mai. Ok, l'abbiamo capito. Qui in questi cinque episodi per ora non è tornato ancora Terry Silver, probabilmente arriverà per fare un saluto alla fine o in qualche altro episodio della seconda o della terza parte. Comunque appunto abbiamo Chris che esce dal carcere fingendosi morto a fine quinta stagione, arriva in Giappone che è totalmente blu come giallo il Messico in Breaking Bad, ma questo veramente blu, senza neanche una vera e propria spiegazione. Ha un minimo di evoluzione perché per il momento appunto lui se dovesse trovarsi davanti il suo allievo maggiore appunto Johnny potrebbe ucciderlo tranquillamente, adesso non ha più paura di ucciderlo. Almeno questo è quello che traspare, secondo me non è assolutamente così, ma ovviamente anche in questo caso aspetto a parlare perché Johnny Lawrence non è presente nei diversi teaser degli attori rilasciati per il film di Karate Kid. Vedremo. Come ho già detto nella parte senza spoiler hanno inserito questa nuova retcon per il personaggio di Miyagi con un passato da picchiatore, almeno questo credo di aver capito dal tizio di School of Rock in palestra, e Miyagi in passato ha anche partecipato a questo torneo mondiale di cui adesso non ricordo neanche il nome con tanto di fascia sporca di sangue, quindi scopriremo che cosa sarà successo. Ovviamente questa è una cosa che hanno inventato totalmente per questa sesta stagione perché non se n'era mai parlato in assoluto. E per quanto mi riguarda sembra anche un po' tirata fuori dal cilindro a caso per aggiungere un'altra sottotrama alla serie. Vedremo come si svilupperà, non voglio essere affrettato perché potrebbe comunque anche piacermi la situazione, dipende tutto da come se la giocheranno. Questi cinque episodi sono appunto preparatori per il torneo che si svolgerà credo nella seconda parte e non so su cosa si concentrerà la terza, se ancora sul torneo o su un'altra storia, su un altro momento, dato che concluderà totalmente la serie, ed essendo preparatori appunto abbiamo gli allievi del Miyagi-Do, adesso questo è il nome ufficiale, che si battono tra loro per essere tra i sei finalisti, per essere tra i sei scelti per il torneo mondiale. Ecco, chi avrebbe mai detto che il tizio di Beautiful lì avrebbe scelto tra tutti gli allievi esattamente 12 che fanno parte dei protagonisti e dei personaggi secondari? Hanno lasciato fuori solo le comparse, chi l'avrebbe mai detto? Neanche un po' la sfida all'interno dello script di inserire un personaggio seppur secondario tra gli eliminati, no. Poi sì, sono stati scelti solo sei di questi dodici e sono letteralmente i protagonisti, quindi se anche alla fine avessi voluto affezionarmi e interessarmi di queste challenge diverse per arrivare poi al torneo finale, non avrei potuto perché era prevedibile che quei sei sarebbero stati i personaggi principali. Che poi sì, non sono tutti i protagonisti perché Tori è andata con il Perché le è morta la madre e credo sia stato palesemente crisa ad ucciderla in qualche modo. Questo personaggio è veramente terribile, la sua storia ne è costruita con un cliché dopo l'altro, ci sono delle scene che appunto toccano il ridicolo, come per esempio quella di lei che trova la madre morta, il modo in cui lo fa è da soppopera latina. E arriviamo alla fine dell'ultimo episodio. Sì, appunto, il cliffhanger principale è che Tori sia dalla parte del Ma abbiamo il famoso Chris ricercato a livello nazionale, credo, in diretta mondiale. Che si fa vedere tranquillamente, sì, prima dice alla stessa Tori quando cerca di reclutarla che è un uomo difficile da trovare, ma se ti metti in diretta mondiale credo che ti riescano a trovare. Probabilmente ho questo presentimento. In ogni caso, tanto per cambiare qualche scena prima di quella finale, abbiamo Daniel Arusso e Johnny Lawrence che litigano. Mamma mia, che originalità! È la prima volta che... non è assolutamente la prima volta che succede, credo sia la decima almeno in sei stagioni. Ovviamente, a meno che uno dei due non muoie, sto parlando solamente di Johnny, torneranno in pace per l'ennesima volta, però per ora durante la seconda parte, quindi durante il torneo mondiale, sono litigati. Ragazzi, in tutto questo, a me dispiace veramente parlare in questo modo di Cobra Kai, perché ripeto che le prime stagioni, delle prime stagioni ho un ricordo più che positivo, però Cobra Kai si aggiunge agli esempi di serie strizzate fino al midollo che sono andate a scacare pian piano. Ovviamente un po' di curiosità per la seconda e la terza parte, ma anche per il film di Karate Kid, la trovo al momento, anche se non mi frega poi così tanto dei personaggi, almeno dei ragazzi combattenti, un po' mi frega di Johnny Lawrence, voglio capire se rimarrà in vita a questo punto, non mi frega tantissimo di Daniel Larusso, voglio magari vedere come porteranno avanti la faccenda di Miyagi e della retcon buttata fuori a caso. E ragazzi, vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine, vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social, Instagram, TikTok, Letterboxd, X e tanto altro, c'è anche il link di Pampling, il link di Fantasia Store. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale, Andri passa e chiude, ciao!